la battuta per Bisi al centro di Fende Brescia Cisolla palla alta arriva Bisi dalla seconda linea Tiberti Orgogno Pistolesi dietro c'è il muro di Galliani su Restani ottimo Tiberti spinge per Gagliani il muro, la copertura di Zito Tiberti ancora lì per il Gallo cerca la deviazione, c'è però la difesa buona di Mondovì, poi Terpin appena entrato muro su di lui Garelli ancora per Terpin il pallonetto, Zito è presente palla dietro per Bisi 23-20 Galliani Borgogno si sposta Pistolesi dietro per Terpin tocca al muro Zito bene per Tiberti al centro Candeli Ancora lui terzo punto il primo tempo in rigiocata Bisi tocca al nastro della rete in difficoltà la recessione di Mondovì da lontano grande attacco risponde bene in difesa Zito Bacisolla che riesce a chiudere il primo set 28-26 con richiami arancio e azzurri in battuta l'Oglisci battuta al salto interessante bello il palleggio di Simone Tiberti che gira un meraviglioso pallone per Fabio Bisi il cambio Pistolesi battuta corta molto insidiosa Feste riceve secondo Lillio centro una delizia jumpflot il muro di Candeli meraviglioso per il 18-17 Tiberti su Terpin Pistolesi Terpin il muro su di lui ancora di Gagliani Gagliani riceve ad una mano Cisolla poi la difesa di Mondovì Pistolesi Bagger molto vicino Bisi prova a chiudere palla di qua Zito Tiberti seconda linea per Andrea Gagliani Terpin riceve abbastanza bene Pistolesi dietro per Borgogna e questa volta c'è il muro di Cisolla palla dietro Borgogna recupera Zito il Tibe contrasto con Gagliani vincente bravo Andrea ma chiuda di presta Tiberti combinazione con Ristic che arriva con un'ottima pipe a chiudere dalla seconda linea per il 25-18 Buona la ricezione Pistolesi spicce Berre Terpin ma c'è il muro di Gagliani muro importantissimo Pistolesi il muro di Candeli Pistolesi battuta semplice Tiberti tocco di prima intenzione bravissimo ci prova anche della battuta molto interessante Zito la riceve bene palla per il Ciso la copertura di Zito sul muro Tiberti ancora per il Ciso la palla ancora di qua Tiberti vediamo terzo tentativo dietro per Bisi la palla è out bravo Bisi palla per il Ciso Festi Tiberti al centro Festi ancora il Ciso Tiberti palla per Ristic molto bravo a trovare il punto del 23-17 si prepara Cisola Pistolesi Ristic Tiberti al centro la palla esce e Candeli chiude con un attacco al centro il 7 con il punteggio di 25-20